Lady Gossip è pronta per darci un contenuto esclusivo, iscrivetevi subito al canale e attivate la campanella. Scoppia il Gossip Mirko Brunetti, il bel tenebroso del grande fratello, è stato l'inaspettato sacrificio nella puntata bollente di sabato 9 dicembre. La bomba esplode quando Anita, la dark horse della situazione, sconfigge Mirko nel televoto, costringendolo a lasciare la casa e a creare un triangolo amoroso avvincente con Perla e Greta. Dopo aver riacceso la fiamma con Perla, la fredda entrata di Greta ha gelato i cuori, portando alla sua eliminazione. Il pubblico, padrone del destino, ha deciso di cacciarlo, lasciando le due donne in lizza. Cosa nasconde il futuro per questo trio di cuori infranti? Inoltre, Mirko, dopo un incontro straziante con la madre, si ritrova nella misteri con Anita, coinvolta in un televoto disciplinare. La busta con il verdetto viene aperta da niente meno che Giuseppe Garibaldi, rivelando che Mirko è il meno votato dal pubblico. La casa è sconvolta, pensando inizialmente a uno scherzo. Il pubblico forse si è stufato della dinamica con Perla e Greta, riflette Mirko, pronto ad affrontare signorini in studio. Che succederà ora? Intrighi e colpi di scena, solo al grande fratello.